vi do il mio più cordiale saluto e il benvenuto a questa undicesima puntata sulla amoris letizia esortazione apostolica di papa francesco sul matrimonio e sulla famiglia già abbiamo percorso un abbondante itinerario analizzando quasi compiutamente i primi sei capitoli dei nove di cui si compone il documento papale amoris letizia ci restava da vedere lo vedremo in questa puntata la parte terminale del sesto capitolo nel quale papa francesco si occupa di alcune prospettive pastorali del matrimonio e della famiglia un capitolo il sesto particolarmente composito eterogeneo potremmo dire perché tratta diversi aspetti della pastorale del matrimonio della famiglia riassumo per sommi capi in questo sesto capitolo il papa si occupa della preparazione al matrimonio si occupa di offrire anche indicazioni circa la celebrazione del matrimonio altre indicazioni preziose sull'accompagnamento pastorale nei primi anni del matrimonio che sono anni molto delicati e poi il papa analizza alcune situazioni di crisi che possono ahimè investire tutte le coppie o crisi poi che in talunica si sfociano nella separazione nel divorzio o anche nel in una nuova unione abbiamo già avuto modo di analizzare un po queste situazioni con l'avvertenza che poi sulla cura pastorale dei divorziati il papa tornerà nell'ottavo capitolo e quindi avremo modo poi di analizzare in maniera ancora più compiuta queste situazioni il sesto capitolo che stiamo dicevo vedendo insieme in queste ultime puntate termina con un'attenzione dedicata ad alcune situazioni complesse così le chiama il papa per esempio una di queste situazioni complesse è quella che riguarda il matrimonio fra cattolici e altri battezzati altri battezzati si intende ortodossi o protestanti delle varie chiese protestanti che per esempio stanno diventando da noi sempre più frequenti i matrimoni con rumeni o rumene che normalmente sono di religione ortodossa o comunque con le persone provenienti dall'est europeo che sono in gran parte ortodossi così come in alcune nazioni sono molto diffusi i matrimoni fra un cattolico e una parte evangelica pentecostale eccetera eccetera questi matrimoni esigono una particolare attenzione soprattutto vanno evitate commistioni inadeguate dal punto di vista celebrativo vanno evitati i doppioni di celebrazione non si può fare una celebrazione cattolica e una ortodossa o viceversa insomma e anche l'attenzione scrive il papa alla partecipazione alla comunione eucaristica va presa in conformità con le norme generali e comunque non può che essere eccezionale questo perché in alcuni casi la fede circa la presenza reale di gesù nell'eucaristia è differente a seconda appunto che si sia cattolici o ortodossi o luterani o pentecostali o quant'altro particolari difficoltà poi vengono presentate dai matrimoni con disparità di culto cioè in questo caso disparità di culto si intende il matrimonio tra una parte cattolica e una parte non cristiana pensiamo a un musulmano per esempio anche questo diventa oggi abbastanza frequente possiamo dire comunque possibile nel momento in cui sono presenti anche per esempio nel nostro mondo occidentale molti molti musulmani e questi matrimoni dice papa francesco presentano non poche difficoltà sia per l'identità cristiana della famiglia sia per l'educazione religiosa dei figli perché un problema non indifferente è in questi casi quale educazione religiosa offrire ai figli bisogna battezzarli non bisogna battezzarli bisogna fargli frequentare il catechismo per gli altri sacramenti dell'iniziazione cristiana eccetera a queste difficoltà vanno aggiunti anche i casi scrive il papa in cui un coniuge è cattolico e l'altro invece non è credente si dichiara ateo si dichiara agnostico in tali casi papa francesco scrive è necessario testimoniare la capacità del vangelo di calarsi in queste situazioni così da rendere possibile l'educazione alla fede cristiana dei figli potremmo aggiungere così in maniera più chiarificatrice se così posso esprimermi che il problema della fede non è un problema secondario nel nell'ambito di un matrimonio e purtroppo questa tematica della fede non sempre viene tenuta nella giusta considerazione da coloro che si sposano non è affatto secondario avere la stessa fede o non averla non è affatto secondario se uno dei due è cattolico praticante autenticamente credente e l'altro non lo è o è credente di un'altra fede eccetera la capacità di vivere insieme di formare una famiglia di educare i figli passa anche attraverso la comunione nella fede e purtroppo però in molti casi è dato registrare il fatto che la questione della fede viene calcolata come marginale se non addirittura irrilevante e questo è uno sbaglio un'altra situazione complessa che il papa analizza in questa ultima parte del sesto capitolo della moris letizia e quella che riguarda le unioni fra persone omosessuali voi sapete che prima che il papa pubblicasse questo documento si era fatta una vasta ampia complessa discussione su questo tema ebbene il papa afferma due cose che mi sembrano entrambe molto vere al numero 250 il papa afferma che va evitata naturalmente ogni forma di discriminazione delle persone dice testualmente francesco che ogni persona indipendentemente dal proprio orientamento sessuale va rispettata nella sua dignità e va accolta con rispetto però poi anzi senza però dopo aver affermato questo nel numero 251 cioè nel paragrafo successivo francesco dice che in ogni caso non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie neppure remote tra le unioni omosessuali e il disegno di dio sul matrimonio e la famiglia quindi con estrema chiarezza no alle discriminazioni nei confronti delle persone che possono avere un orientamento sessuale come dire particolare e altrettanto no però a un assimilazione delle unioni fra persone omosessuali al matrimonio perché questa assimilazione non è possibile perché non corrisponde al disegno di dio sul matrimonio e quindi sulla famiglia inoltre papa francesco scrive sempre in questo numero 251 che è inaccettabile che le chiese locali subiscano delle pressioni in questa materia e che gli organismi internazionali condizionino gli aiuti finanziari ai paesi poveri all'introduzione di leggi che istituiscano il matrimonio fra persone dello stesso sesso è inaccettabile questa forma di pressione sulle chiese locali così come è inaccettabile subordinare aiuti economici ai paesi più poveri subordinarli al fatto che questi paesi stabiliscano leggi che possono istituire il matrimonio fra persone dello stesso sesso un'altra situazione complessa è quella che riguarda le famiglie monoparentali cioè le famiglie in cui c'è un solo genitore che deve accudire al figlio ai figli famiglie monoparentali che possono sorgere per diverse cause abbandono ragazze madri morte di uno dei conici eccetera sono tutte situazioni che devono trovare sostegno cura molto particolare nelle comunità cristiane e infine una particolare attenzione va apposta alle famiglie che hanno subito dei lutti e quindi delle perdite anche gravi pensiamo ai genitori che hanno perso dei figli giovani che esigono un valido accompagnamento pastorale fondato sulla fede nella risurrezione e sulla utilità della preghiera per i defunti come vedete il papa termina questo complesso sesto capitolo proprio prestando attenzione a quelle che egli stesso definisce situazioni complesse situazioni particolari abbiamo dedicato quasi tre puntate a questo sesto capitolo perché questo capitolo 6 certamente è un contenitore per così dire di diverse problematiche pastorali nelle quali la chiesa scommette buona parte della sua azione evangelizzatrice il settimo capitolo parla del delicatissimo tema della educazione dei figli certamente l'educazione dei figli è tesa scrive papa francesco a far crescere nei figli l'uso di una libertà responsabile sono due termini libertà e responsabilità che purtroppo difficilmente vanno di pari passo si tratta scrive papa francesco di generare nei figli fiducia attraverso una guida un aiuto alla scoperta personale dei valori e delle norme si tratta di rafforzare la libertà dei soggetti che sono i figli utilizzando anche la correzione e anche la sanzione a patto però di non farsi mai trasportare dalla ira dalla rabbia il figlio infatti va corretto scrive papa francesco ma mai come un nemico o uno su cui si scarica la propria aggressività mi sembra che sia molto chiaro questo discorso cioè in pratica al numero 270 francesco dice bisogna evitare i due estremi educare il figlio soltanto a misura dei propri desideri oppure torturarlo perché realizzi i desideri altrui l'educazione deve fondarsi su un paziente realismo che proponga piccoli passi e rinunce proporzionate perché chi chiede troppo spesso non ottiene nulla in modo particolare va apposta una attenzione specifica all'uso della libertà la quale va incanalata non può essere abbandonata a se stessa questo è un ragionamento particolarmente importante perché oggi si richiede una particolare educazione alla all'uso responsabile dicevo della libertà che subisce molti condizionamenti molte pressioni molte limitazioni una particolare attenzione va apposta dice papa francesco all'uso dei mezzi tecnologici della comunicazione e del divertimento che recano in dubbi benefici ma possono presentare in dubbi pericoli il papa a questo riguardo parla del rischio di un autismo tecnologico così si esprime che espone in particolare i bambini e gli adolescenti alla manipolazione di quanti cercano di entrare nella loro intimità con interessi egoistici pensate e così concludo questa puntata anche a quello che oggi si chiama il cyberbullismo e quindi una forma di violenza psicologica che può essere esercitata specialmente sui minori proprio attraverso i mezzi moderni tecnologici di comunicazione il tempo a mia disposizione finisce qui e quindi vi saluto vi do appuntamento alla prossima puntata su questo tema dell'amoris letizia un cordiale saluto a tutti